In questo video vedremo tre consigli per rimorchiare una ragazza fidanzata. Per iniziare ti ricordo è uscito il nuovo videocorso ragazze proibite, strategia di seduzione bastarde ma etiche per invogliare ragazze fidanzate o donne sposate a cornificare il proprio uomo e venire a letto con te di nascosto. Funziona anche e soprattutto nei casi in cui la ragazza dice di essere fidanzata ma in realtà sta mentendo ed è semplicemente una scusa per rifiutarti. Dal 20 fino al 27 luglio 2022 è acquistabile a un prezzo di lancio più basso poi dopo il 27 luglio aumenta di prezzo. Tutte le info stanno cliccando sul primo link in descrizione o se hai domande o dubbi sempre in descrizione trovi i contatti del mio team per fare domande a voce o anche su whatsapp. Quindi le tre differenze più grosse che sono appunto i tre consigli che vado a dare in questo video. Le tre differenze più grosse quando ti rapporti con una ragazza che è fidanzata o sposata sono la prima nella parte iniziale di approccio quindi nel saper rispondere a quando ti dice che è fidanzata. La seconda differenza che poi vedremo adesso tra un attimo il video è quando ti scambi il contatto perché è leggermente diverso quando ti scambi il contatto con una ragazza single e la terza differenza più importante è quando durante l'appuntamento quindi perché non puoi gestire un appuntamento con una ragazza fidanzata come se fosse single. Poi in realtà ci sono tante altre differenze ci sono delle volte delle differenze in conversazione devi andare a indagare nella relazione in coppia per capire un attimo se è solida o no. Ci sono le differenze poi anche nel sesso nel dopo il sesso e in tante altre situazioni però qua andiamo a vedere diciamo le tre differenze più importanti che sono appunto in queste tre fasi quindi la prima punto di macro differenza nel saper rispondere al sono fidanzata perché ti può dire sono fidanzata per vari motivi. L'ho già citato in altri video del tipo di che è fidanzata semplicemente perché hai approcciato male e quindi ti sta rifiutando in maniera facile e gentile per lei senza doversi esporre perché è imbarazzante per una ragazza doverti dire no non mi interessi ciao. Quindi tutte le ragazze sia in realtà tutti quanti tutte quante le persone cerchiamo di evitare più possibile le situazioni imbarazzanti quindi una ragazza vuole evitare una situazione imbarazzante dove ti dice guarda non mi interessi beh via. Oppure magari anche dopo dieci minuti di conversazione magari era interessata all'inizio poi ha perso interesse durante la conversazione perché non ti sei comportato nel modo giusto è imbarazzante dirti alla fine della conversazione guarda mi interessavi all'inizio e adesso non mi interessi più ciao e quindi ti dice alla fine guarda non te l'avevo detto però in realtà sono fidanzata. Beh in realtà sta mentendo ok? Semplicemente ha perso interesse quindi questi sono giusti alcuni esempi del perché una ragazza ti può dire che è fidanzata se non sai rispondere nella maniera corretta ti perdi la situazione anche se lei non è fidanzata ok? Quindi capisci dove è il casino che in realtà tante volte non è realmente fidanzata semplicemente te lo sta dicendo per altri motivi in altri casi effettivamente è realmente fidanzata però potrebbe essere che se ti risponde in maniera positiva la ragazza molte volte ha semplicemente una relazione dall'altra parte infelice quindi molte volte magari c'è semplicemente dall'altra parte un ragazzo che inizialmente l'ha anche conquistata però diciamo non è stato in grado di mantenere l'interesse alto durante la relazione e quindi nel momento in cui ci sono delle carenze nella relazione la ragazza si guarda intorno ma non è che si guarda intorno semplicemente quando ci sono delle carenze e la ragazza viene approcciata a qualcuno perché è inevitabile se la ragazza è un minimo carina verrà approcciata da qualcuno durante le sue giornate risponderà positivamente se dall'altra parte c'è una relazione infelice quindi ci sono casi poi che sono in realtà lo 0,0001% di casi dove la ragazza è realmente fidanzata e ha anche una relazione felice in quei casi non puoi farci niente è matematicamente possibile non c'è il modo non è possibile quindi quando dall'altra parte c'è una relazione felice non non puoi farci niente non puoi fare breccia e di solito non ci arrivi neanche a parlare di solito ti rifiuta subito o comunque magari ti risponde ti dice grazie poi se ne va ok te lo può dire anche come test a inizio conversazione per le ragazze vengono approcciate ogni giorno per la realtà vengono approcciate ogni giorno male da una marea di disagiati e però se la ragazza dovesse dire di sì ogni ragazzo che ci prova dovrebbe passare la sua vita costantemente in appuntamento e non può farlo che la ragazza fa come tutti quanti ha altre cose da fare oltre all'uscire con i ragazzi quindi non è normale che debba filtrare quindi tre volte mette semplicemente un piccolo ostacolo all'inizio per scremare i più deboli quelli più insicuri siccome la sicurezza interiore è una delle caratteristiche che attraggono di più le ragazze e lo fa inconsciamente ok quindi sta sta scremando in maniera inconscia chi è più sicuro ok quindi se ti scoraggi semplicemente per un sono fidanzata ti perderai tantissime ragazze poi la seconda macro differenza come anticipavo è quando ti scambi il contatto non puoi scambiarti il contatto come se fosse una normale ragazza single poi te lasciando il fatto che la maggior parte gli uomini non sa neanche come si scambia il contatto in maniera corretta bisogna prima parlare dell'appuntamento e poi dopo prendere il numero per questo rende più solido il contatto ok anziché la maggior parte di uomini che prendono il numero poi non si capisce mai quando bisogna parlare dell'appuntamento e perdono centinaia di anni in chat a parlare di robe inutili senza poi mai arrivare all'appuntamento quando bisogna prima parlare dell'appuntamento introdurlo con seppio da drink o da caffè eccetera e poi dopo prendere il numero in un certo modo quindi quando si tratta di ragazze fidanzate non puoi invitarla non puoi parlare di un'attività d'appuntamento tra virgolette romantico ok per la ragazza se parli di questa cosa una ragazza che fidanzata le metti pressione per l'appuntamento la ragazza non può venire ad un appuntamento se gli metti aspettativa di un appuntamento romantico ok quindi bisogna impostare la sua aspettativa da amici ok quindi va suggerita un'attività da amici per l'appuntamento poi ovviamente non è ovvio è ovvio per me e durante l'appuntamento non devi soltanto fare l'attività da amici ok perché se no di solito le attività faccio un esempio così è più facile è un studente una volta è fatto un appuntamento con la ragazza fidanzata c'era poi arrivato al sesso ma si sono visti per andare in palestra insieme perché avevano questo interesse in comune poi dopo sono andati a pranzo insieme poi dopo sono andati a casa di lei a far sesso ok ma la ragazza non avrebbe accettato l'appuntamento se lui avesse suggerito soltanto di vedersi a pranzo ok quindi va messa un'attività da amici va impostata un'aspettativa d'amici però se poi di solito le attività da amici non sono degli appuntamenti buoni perché è difficile creare diciamo l'atmosfera giusta riuscire a flirtare con la ragazza riuscire a fare il contatto fisico giusto cioè per esempio l'esempio ho appena citato della palestra se tutti quanti sudati non si crea di solito la giusta atmosfera per poi arrivare al bacio per poi portare la ragazza a casa poi parleremo adesso tra poco del fatto che ragazze fidanzate non devi provare a baciarle adesso ne parleremo tra un attimo quindi per quello poi necessario a un certo punto fare anche un'attività d'appuntamento quindi poi a un certo punto sedersi da qualche parte a bere qualcosa a mangiare qualcosa perché si sta seduti quando si sta seduti è molto più facile fare contatto fisico e creare l'atmosfera giusta ok però se la si invita soltanto per vediamoci per un drink vediamoci per un caffè vediamoci per mangiare insieme la ragazza ha rifiuto l'invito per l'appuntamento poi qua c'è una domanda che viene fatto in tanti che tanti che non capiscono la psicologia femminile eh ma se imposto un'aspettativa d'amici poi come gli faccio cambiare l'idea all'appuntamento la ragazza quelle sono soltanto le parole ok quello che la ragazza si aspetta all'appuntamento è determinato dai comportamenti quella è soltanto la scusa logica che le stai dando per fare in modo che sia facile per la ragazza dire di sì all'appuntamento ma poi lei non è che viene all'appuntamento pensando ah siamo solo amici poi tu ti comporti in maniera corretta all'appuntamento la ragazza non è che si fa l'aspettativa d'amici la ragazza viene all'appuntamento e non ha aspettative non lo sa le ragazze di base questo l'ho fatto come esempio a uno studente in un corso a vivo recente che le ragazze bisogna immaginare essere come costantemente sotto effetto di stupefacenti ed alcol con la visione annebbiata che non lo sanno non sanno agiscono in base a come si sentono sul momento e quindi tutti queste varie paranoie mentali non ci sono nella testa della ragazza non è che viene all'appuntamento che si aspetta che siamo amici non c'è quello si aspetta quello che si aspetta in base a come ti comporti durante l'appuntamento la terza macro differenza come anticipavo è durante l'appuntamento quindi non puoi gestire un appuntamento con una ragazza fidanzata come se fosse single quindi una delle più importanti differenze è che non devi provare a baciarla perché le ragazze fidanzate danno più valore al bacio rispetto che al sesso che io mi rendo conto che sei un uomo questi video sono fatti per un pubblico maschile e con la prospettiva logica maschile questa cosa non ha un cazzo di senso ma nella psicologia femminile ha perfettamente senso questa cosa se vuoi avere successo con le donne se vuoi fare sesso con diverse donne se vuoi entrare in una reazione vuoi riuscire a fare sesso con ragazze che sono fidanzate devi capire quello che c'è nella testa delle donne devi riuscire a capire la psicologia femminile e queste informazioni non ti verranno a trovare nel sonno così magicamente vanno studiate, vanno imparate da chi le sa da chi le insegna per lavoro, porca troia ed è anche molto comune che anche poi dopo il sesso una ragazza che è fidanzata non ti voglia baciare quindi se tu ti ostini a cercare a tutti i costi di baciarla quando siete fuori casa oltretutto le stai anche facendo avere poi in caso dei ripensamenti o comunque poi ti rendi il lavoro più difficile nel portarla a casa va portata a casa senza aver fatto il bacio senza neanche averlo provato il bacio quindi puoi fare tutto quanto il contatto fisico fino ad arrivare magari a baciare sulla guancia sul collo già inizia a diventare zona pericolosa nel senso che puoi fare vedere i ripensamenti o ti rendi poi il lavoro più difficile nel portarla a casa quindi si fa tutto quanto il contatto fisico semplicemente saltando il bacio quando poi si è di nuovo, quando poi si è in casa si riprende il contatto fisico saltando il bacio ok? molto importante questa cosa e anche a seconda di quanto è solida la relazione della ragazza bisogna gestire il contatto fisico in un certo modo piuttosto che in un altro se sai che la ragazza ha una relazione che fa totalmente schifo che è una relazione totalmente in declino e sei sicuro che puoi farci sesso in quel appuntento puoi anche diciamo andare un po' più spinto con il contatto fisico senza farti troppi problemi perché tanto la ragazza sai già che ha una relazione che fa schifo e magari anche lei ne è consapevole se la ragazza ha una relazione che fa un po' schifo però non troppo diciamo una relazione un po' traballante e non sei sicuro di poter far sesso con quella ragazza in quel appuntento lì devi stare attento con il contatto fisico anche in tutte quante diciamo le mosse di contatto fisico prima del bacio perché se esageri con il contatto fisico la ragazza poi dopo può avere dei ripensamenti se ha una relazione che è traballante se la ragazza invece fa totalmente schifo ripeto non avrà ripensamenti anche se esageri con il contatto fisico ma comunque il bacio non va fatto altrimenti ti rendi le cose molto più difficili fino al punto in cui la ragazza te la bruci totalmente quindi se vuoi saperne di più su come riuscire a far sesso con ragazze che sono fidanzate o sposate ti ricordo è uscito il nuovo videocorso a ragazze proibite strategie di seduzione bastarde ma etiche per invogliare ragazze fidanzate o donne sposate a cornificare il proprio uomo e venire a letto con te di nascosto funziona anche e soprattutto nei casi in cui una ragazza dice di essere fidanzata ma in realtà sta mentendo ed è soltanto una scusa per rifiutarti dal 20 al 27 luglio 2022 è acquistabile a un prezzo di lancio più basso dopo il 27 luglio aumenta di prezzo tutte le info sono cliccando sul primo link in descrizione o se hai domande o dubbi puoi chiamare il numero di telefono gratuito che trovi sempre in descrizione e parlare a voce con uno dei nostri consulenti o se hai domande vuoi scrivere via messaggio c'è anche il contatto whatsapp sempre in descrizione per scrivere via messaggio a uno dei nostri consulenti su whatsapp detto ciò ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao